È un momento anche un po' particolare, magari speriamo che vi è inizio da una continuità di questo tipo di incontri, perché vuol dire due cose. Prima, che è finita. Secondo, che la nostra marca costruisce tante le terrenome che abbiamo usato. Questa sera abbiamo, questa serata, comisa su due temi con i nostri amici del BAMS. BAMS è l'associazione di Varese auto-autostoriche che organizza, tra tante cose, questa bella competizione che si chiama Varese Capo dei Fiori, con Patrelaghi, la rievocazione di un'importante corso in salita degli anni 20 e degli anni 50 e che oggi è con le auto-storiche. perché abbiamo voluto raggiungere insieme, oltre al fatto che siamo da anni in corso di questa manifestazione e diventati, logicamente, anche amici del BAMS. perché abbiamo voluto raggiungere insieme dal passato al presente, un presente estremamente innovativo, che poi Daniele vi spiegherà nel dettaglio, perché Daniele ha partecipato a Spagna, una presentazione europea, conosce tutti i dettagli di questa macchina, che è veramente una novità in assoluto nel campo della cultura elettrica. Grazie.